In Sardegna i giovani credono nell'agricoltura come dimostrano i dati, visto che l'isola è il quarto posto tra le regioni italiane per numero di aziende under 35 con 4.238, ma le loro aspirazioni sono spesso frustrate dalla burocrazia e dalla politica. Quanto sottolinea in una nota la col diretti Sardegna, lo spaccato di questo muro con cui devono confrontarsi i giovani volenterosi che vogliono investire nella terra arriva dai bandi del piano di sviluppo rurale riservati ai giovani, scrive l'Associazione Agricola. Il primo insediamento nella versione semplice è quella legata agli investimenti e pacchetto ai giovani. La col diretti in una nota ricorda le vicissitudini dei bandi sui quali era stata posta tanta enfasi in fase di presentazione e dove si poneva l'accento soprattutto sull'iter semplificato e veloce. Questo sarebbe stato ottenuto grazie alla presentazione delle domande a Sportello, il finanziamento di tutte le domande e la brevissima tempistica, entro 90 giorni dalle domande sarebbe potuto sapere l'esito. Invece, dopo varie sospensioni e rinvie, è stato riaperto definitivamente solo con un decreto del 27 febbraio 2017. La settimana prossima, precisa l'Associazione Agricola, dopo oltre sei mesi di silenzio e attesa per i giovani, cominceranno le istrutture delle domande. Sono dunque ancora lunghi i tempi per arrivare alla conclusione dell'iter, scrive la Col di Reti. Inoltre, due terzi dei giovani che hanno presentato le domande non saranno finanziate, visto che con le risorse a disposizione, 70 milioni totali, saranno finanziate 572 domande su oltre 1.600 per il primo insediamento e massimo 400 su oltre 1.200 per il pacchetto giovani. Con i rimanenti 30 milioni saranno finanziati gli investimenti. Purtroppo avevamo ragione noi quando sollevavamo dubbi sul bando a sportello e sull'utilizzo del SIA nel sistema informatico nazionale che ci legava alla GEA, sottolinea la Col di Reti. Adesso si torna al passato, ma abbiamo perso tempo, oltre che disilluso diversi giovani, diversi dei quali hanno dovuto cercare nuove strade lontane dall'agricoltura.